Cari quadristi buongiorno ed eccoci nuovo articolo pensavate che il vostro ferro non vi rompesse più le balle e invece mischia i denti magnifici ecco signori Articat 650 piccola marchetta quad center team malostica del buon mario ci siamo e revisione motorino di avviamento come potete vedere il motorino di avviamento è alloggiato qua questo è il buco di inserimento per arrivare a motorino di avviamento bisogna togliere il collettore di aspirazione nello specifico questo pezzo del vano variatori cioè il collettore dal quale il vano variatori aspira aria fresca questo è il condotto lo togliete una volta che lo togliete il motorino può sfilarsi ci sono quattro bulloni di tenuta e due bulloni di tenuta della culata del motorino di avviamento qua è abbastanza un attimo difficile da vedere ma cercherò di farvelo vedere un pochettino meglio eccolo qua se togliamo il pezzo di protezione questo è l'aspirazione dell'aria del vano variatori e trovano variatori come potete vedere ci sono due bulloni di tenuta due inviti e vedete quelli centrali e 12 sono di tenuto nel motorino di avviamento i quattro che ci sono invece in alto vedete sono i bulloni l'inserimento per i bulloni che tengono il collettore dell'aria di là invece quello è il motorino di avviamento quindi dovete prima svitare il collettore una volta svitato il collettore svitati i due bulloni del motorino il collettore può essere sfilato fate attenzione dovete posizionare perfettualmente la croce anteriore per poter svitare l'ultima vite che è veramente bastarda ma comunque ce la fate che è brucola del 5 allora una volta che fate questo è arrivato al motorino il motorino si svita svitando questi bulloni passanti una volta svitato otterrete le due guarnazioni di tenuta la parte interna del motorino lo statore del motorino la parte centrale del motorino con i magneti che io definisco volano ma va bene e la parte la culatta la culatta del motorino dove avete dentro quella che viene definita la piastra di odi con le spazzole a questo punto provvedete alla sostituzione delle spazzole per forza di cose e provvedete alla lubrificazione dei binari delle spazzole cioè lo spazzole devono entrare e uscire liberamente questo dopo un mezzo che ha la sua età secondo me è buona cosa farlo in modo da salvaguardare il vostro motorino una volta fatto questo vi ricordo che all'interno ve la faccio vedere un'altra volta trovate la bronzina di tenuta sulla culatta mentre nella parte anteriore trovate un cuscinetto rulli lo vedete ecco allora sia la bronzina ma senza esagerare sia il cuscinetto dove dovete mettere del grasso poco però potete esagerare un attimo con il grasso sul cuscinetto rulli perché come vedete c'è il parolio quindi impedisce al grasso entrare nel motorino soprattutto è buona norma perché da lì può entrare la schifezza mentre nella parte interna del motorino che altresì importante ma non potete mettere troppo grasso dovete solo metterne un velo oppla perché come vedete non c'è alcun parolio più grasso mettete più grasso potrebbe andare sullo statore e quindi impedire lo spazio di fare contatto una volta pulito vedete di pulire anche questo statore con il protector lo pulite levate via tutta l'ossidazione levate via l'ossidazione le spazzole e poi riassemblate il motorino pulendo perfettamente ogni aggancio dove va la guarnizione ogni sede guarnizione e prima di inserire mettete del grasso sulla sede guarnizione a quel punto chiudete intotto il vostro motorino un avviamento e lo riposizionate sul mezzo bene o male avevi fatto l'articolo per l'article 650 ma guardate che i quali sono tutti uguali in queste cose e questa è veramente un'operazione molto importante da fare al vostro mezzo allora secondo me essere usate bene ogni due anni buona cosa farlo comunque non più di cinque anni c'è ogni cinque anni questa manutenzione l'ha fatto il nostro motorino avviamento problemi non ve ne darà mai ma se voi non l'ha fatto per un certo punto un motorino e scioppa e scioppa se disse signori d'acqua di sti.it squadra corse un bel video articolo tecnico sulla preparazione e riparazione del motorino avviamento a proposito state anche attenti perché nel motorino avviamento avete parecchi distanzialini tante cosine piccoline ecco state attenti a non perdere e se per caso li togliete segnatevi esattamente dove sono adesso con il cellulare e gli smartphone guardate che una fotografia salva molto ma vedete se non lo rimettete il motorino fin sia male e fin sia male signore dal ferro d'acqua di sti.it squadra corse un saluto articati 650